Il mistero di Cristo e il mistero della Chiesa non possono essere compresi in maniera separata. E' Cristo che sceglie di comunicare tutto se stesso, di comunicare i Suoi segni di grazia, che sono i sacramenti, la Sua parola, i Suoi gesti. E' Cristo che comunica a questa nostra fragile umanità, a questa assemblea radunata, non dimentichiamolo che questo è il significato della Chiesa, assemblea radunata, comunità viva. Ecco, sceglie di affidare il grande mistero della salvezza, che non appartiene alla Chiesa, ma appartiene a Lui ed al Suo. La Chiesa ne è custode e garante. E quando lo fa, il Signore ha la certezza di quelle che possono essere le fatiche. Perché questa comunità è composta da una dinamica umana, quindi segnata evidentemente dalle conseguenze del peccato, da una evidente fragilità nei Suoi membri. Ma, Egli comunica, lo vedremo bene al termine del tempo pasquale, comunica il Suo Spirito che è garanzia della Sua presenza. Le ultime parole che Gesù dirà ai Suoi, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo. Dopo aver dato loro il mandato, l'andata ad annunciare il Vangelo, battezzate tutte le creature, annunciando e segnando tutto ciò che io vi ho detto. E dice, io sono con voi. Allora lì si fonda un mistero di grazia, quello che noi definiamo e proclamiamo e professiamo nel credo. La Chiesa Santa, perché questa Chiesa è guidata da una santità che oltrepassa il nostro limite umano, quello supera. E' evidente come la Chiesa diventi un segno, un segno che deve far permeare la presenza di Cristo, farla trasparire, farla percepire, non soltanto attraverso i sacramenti che essa celebra e la parola che annuncia, ma come giustamente il numero otto di Lumen Gentium ci ricorda, con un'attenzione ai poveri a guarire quelli che hanno il cuore contrito e a cercare a salvare ciò che è perduto, così come Gesù ci ha detto, non sono venuto a salvare coloro che non hanno bisogno, che sono sani, ma sono venuto per i malati, io sono medico delle anime ferite. Allora è una Chiesa che manifesta Cristo sanando le ferite, stando accanto a coloro che sono più in difficoltà, una Chiesa che, utilizzando un'espressione di Papa Francesco, una Chiesa da campo, cioè una Chiesa capace di essere presente laddove tante volte le parole del mondo rimangono solo parole, ma una Chiesa che sa riconoscere Cristo incarnato, Cristo salvatore, lo sa riconoscere proprio in quella povertà e persecuzione che lui stesso ha vissuto, a cominciare dalla grotta di Betlemme, dalla Mangiatoia, sino ad arrivare alla Croce. Uno stile che la Chiesa ha, che non si inventa, ma uno stile che viene da lui, dal Maestro, uno stile che è quello del lavare i piedi, uno stile che anche nell'Eucaristia, il sacramento per eccellenza, il Santissimo Sacramento come comunemente lo chiamiamo, una presenza reale di Cristo nel pane consacrato, ma non dimentichiamo che Corpo di Cristo è una definizione che si può dire di due realtà, sia dell'Eucaristia, Corpo di Cristo, perché lo è, ma la stessa definizione si può dare della Chiesa. La Chiesa è Corpo di Cristo, ci dice San Paolo. Cristo è il campo e noi siamo le neve. Allora quel Corpo che noi riconosciamo lì, vivo, lo stesso Corpo che Maria ha portato nel grembo, che ha concepito, partorito, che ha dato alla luce, che ha allevato, ha visto crescere, visto morire, visto risorgere, è lo stesso Corpo che noi formiamo, che i fratelli e le sorelle formano. Allora la giusta adorazione che noi diamo all'Eucaristia, ecco, quell'adorazione la dobbiamo riservare anche al Corpo di Cristo che è la Chiesa, cioè i fratelli e le sorelle che compongono la comunità, che rimangono mistero tanto quanto l'Eucaristia. chiediamo al Signore della Grazia che questa parola che oggi ci è offerta sia per noi oggetto emotivo di conversione in questo tempo di Quaresima che ormai in maniera prossima ci introduce alla Pasqua. Grazie.